Sì, sono pronto. Allora, vedo di condividere alcune slide, se è possibile. Ok, perfetto. Oggi si parla di scrittura. L'idea è proprio quella di vedere un attimino con voi quelle che sono tutte le proposte che nel tempo sono state fatte e si stanno facendo a tutti i nostri bambini e ragazzi e ragazzini con la sindrome del cridushat a scuola a livello didattico e capire il perché sono fatte queste proposte. Prima volevo un attimino farvi vedere qualcosa di interessante in modo tale da capire come funziona la scrittura. Dopodiché vediamo e vedremo quali sono le strumentalità che servono per poter scrivere e proveremo ad approfondire un po' il tutto. È vero, il tempo stringe, ma cercheremo un attimino di dare un input a tutto quello che serve per capire bene la scrittura. Ecco, come ha detto Daniele, se ci sono domande fermate non è un problema perché preferisco fermarmi subito piuttosto che poi riprendere l'argomento. Per cui ben venga lo stop. Ok, perfetto, benissimo. Allora, la scrittura. Allora, la scrittura che cos'è? Non è altro che una modalità della produzione del linguaggio. Per cui che cos'è che succede? Succede nella scrittura che viene trasmessa una fonte, viene trasmesso un messaggio che è molto più permanente e duraturo rispetto alla trasmissione orale che è il linguaggio stesso, no? La scrittura quindi è questa trasmissione e questa traduzione di suoni mediante segni convenzionali perché prima passa da un'etichettatura di un suono mediante un simbolo scritto. La stessa identica cosa poi sarà nel tempo sempre più e diventerà nel tempo sempre più sofisticata e diventerà sempre più un messaggio lungo e con significato. La scrittura fa parte di un grandissimo calderone che è quello della grafia. Con grafia che cos'è che intendiamo? Proprio per capirci un attimino ma acceleriamo su queste cose perché non mi voglio soffermare troppo su questa teoria. Allora, con grafia intendiamo tutto ciò che noi possiamo, tutti i segni, tutto ciò che noi possiamo fare per tracciare qualsiasi tipo di segno, o qualsiasi tipo di messaggio con oggetti, con movimenti, con posizioni. Per cui esempio, per grafia possiamo anche intendere il susseguirsi del posizionamento di tanti giochi messi in un certo modo rispetto ad un altro oppure di un corpo che si muove in uno spazio che assume determinate posizioni dettate da una seconda persona o dall'adulto di riferimento, ok? Allora, la prima cosa importante da vedere, e questo è solo per dare un'informazione anche qui molto generica, è come funziona il nostro cervello quando scrive. Allora, quando noi scriviamo succedono tante cose molto belle, tra virgolette, il nostro cervello si accende e voi vedrete che ci sono delle aree, e sono dodici in particolare, che si accendono e sono aree completamente diverse da quelle della lettura, o meglio, qualcuno è simile, ma la maggior parte di queste aree sono altre. Per cui la prima cosa che noi possiamo vedere da queste neuroimaging è che il nostro cervello scrive con aree completamente diverse rispetto alle aree adibite per la lettura. Per cui proviamo a vedere un attimino qui. La cosa che vediamo è, questo è un cervello sezionato, sono delle immagini con tutte le accensioni, vedete tutte queste aree che funzionano mentre si sta scrivendo. Per cui sono aree coinvolte e vedete che dove c'è più rosso, se così possiamo dire, sono le aree parietali superiori sinistre, soprattutto sinistre, che sono le aree motorie, le aree linguistiche e le aree del controllo visivo. Poi ci sono dei piccoli bottoni che si accendono un po' in mezzo, un po' dietro, dentro, eccetera, eccetera. Per cui si accendono parti relative al cervelletto, si accendono parti relative al talamo, si accendono parti relative ai gangli della base. Cioè qui vedete nel quinto disegnino, quello a metà sotto, dove c'è un cerchiolino con scritto Putamen. Per cui ci sono delle aree molto particolari adibite al controllo, adibite alla memorizzazione dell'atto, che si accendono di volta in volta, noi scriviamo. Per cui la cosa principale che si nota rispetto a tutte queste immagini e sono tante poi gli studi che sono stati fatti di neuroimaging mediante il dettato, mediante l'autodettatura, sono tantissime e la cosa che si nota è proprio che le aree più coinvolte sono quelle parietali superiore, che sono quelle che servono soprattutto per il linguaggio, i movimenti saccadici e il movimento motorio della mano mentre stiamo scrivendo. Per cui sono aree soprattutto di controllo e di memorizzazione di questo. Altre parti che vengono innescate mentre noi scriviamo sono quelle del cervelletto che ci danno un coordinamento motorio soprattutto degli atti motori volontari e altre aree sono quelle del putamen che abbiamo visto prima, ci ha scritto put, e del talamo. Putamen che cosa fa? È una piccola parte del nostro cervello adibita soprattutto all'equilibrio e che ci serve soprattutto per memorizzare tutti quegli atti ripetuti e sequenziali. Provate a pensare, se noi adesso dovessimo scrivere con un dito in aria una lettera, una parola, piuttosto che subito la eseguiamo senza errori, cioè con molta sicurezza. E questa ripetizione è soprattutto memorizzata in questa area che controlla. L'altra area è quella del talamo. Il talamo che cosa è che fa? Ci fa percepire informazioni sensoriali e le integra con quelle motorie. Per cui il fatto di riuscire a sentire inizialmente una birra in mano e poi non sentirla più e scrivere con questo strumento è fondamentale. Ok? Per cui, qui è per farvi vedere un attimino come il nostro cervello funziona e in quali aree funziona di più mentre noi scriviamo. Questo è nel dettato, per esempio. Vedete che bene o male sono le stesse. Ecco, altra cosa molto importante è stato questo studio in cui sono state confrontate le scritture dettate dalla mano destra, il piede destro, piuttosto che uno zigzagging, un tapping sempre fatto con la mano destra e la cosa importante è che è stato visto che quando noi andiamo a scrivere questa scrittura fatta con la mano dominante va a confermare l'accensione solo ed esclusivamente di queste aree parietali superiori e temporali superiori ed inferiori. Ecco, questo è un po' per darvi un'idea di come il nostro cervello scrive e apprende la scrittura. Adesso avanziamo sulle cose che ci interessano. Ecco, io vi ho messo anche questa cosa, scusate, sì, ok, va bene. Ve la nomino perché è molto importante, perché è una ricerca italiana ed è stata una ricerca fatta su tantissimi bambini a Roma. Questo Benedetto Vertecchi con questa ricerca ha confermato il fatto che è possibile apprendere una buona scrittura scrivendo. Per cui spesso e volentieri noi pensiamo che scrivere sia un qualcosa di nato, per cui uno debba per forza scrivere inizialmente subito bene, mentre invece non è così. Sui bambini fatti scrivere tutti i giorni un testo hanno visto che dopo sei mesi questi bambini scrivevano molto meglio, riuscivano a fare sintesi e diminuivano quelli che erano gli oro ortografici. Per cui scrivere paradossalmente senza tante correzioni ti permette di migliorare la tua scrittura, ok? Sì, hanno scritto soprattutto in corsivo questi bambini, ecco. Andiamo avanti. Quali sistemi sono coinvolti quindi nella scrittura? Allora, nella scrittura sono coinvolti due sistemi, uno sensoriale e uno motorio. Sensoriale, quali? Il tatto, la visione, l'udito, l'equilibrio. Perché il tatto? Perché noi dobbiamo sentire molto bene lo strumento che teniamo in mano. Se noi avessimo una mano in formicolata non potremmo riuscire a gestire una birra, un pennarello, una matita. La visione perché? Perché i nostri occhi controllano quello che noi andiamo a scrivere. L'udito perché? Perché è fondamentale per associare l'atto motorio dello scrivere con il significato o inizialmente il suono che io uso per etichettare il segno che sto scrivendo. E l'equilibrio perché? Perché io devo riuscire a coordinare tutto il mio corpo. Perché tutto il mio corpo? Occhi, linguaggio, udito, mano, la postura. Cioè, devo riuscire a coordinare tutto il mio corpo per poter attivarmi in quest'atto motorio molto complesso. E il sistema motorio nella mobilità, nella manualità e nel linguaggio. Nella mobilità perché? Questa mattina Pedri Nazzi quando spiegava i livelli del bambino da 0-6 anni ci ha detto una cosa fondamentale e cioè che il bambino che corre bene, che ha le braccia libere rispetto al corpo è un bambino che può scrivere con molta più lucidità e disinvoltura rispetto ad un bambino che ha le braccia legate. Per cui la mobilità, la corsa è funzionale alla scrittura. L'altra cosa è la manualità, l'altro sistema coinvolto motorio è quello della manualità e cioè l'uso delle mani è l'uso che poi di fondo diventerà sempre più sofisticato con l'uso delle dita ed è quello che ci permetterà di scrivere più o meno bene. Il fatto di riuscire a dare esperienze ai bambini molto piccoli questo permettere soprattutto del mangiare con le mani soprattutto dell'uso delle mani in tutte quelle che possono essere le opportunità domestiche è ciò che permette al bambino di poter prendere in mano uno strumento con molta più facilità. E il linguaggio giustamente perché allora inizialmente per quanto concerne il dettato spesso e volentieri noi non abbiamo una necessità di un gran linguaggio per poter scrivere perché basta sentire il suono e riuscire a muovere bene la mano per poter etichettarlo e poi poter tracciare il segno ma ad un certo punto quando la scrittura diventerà sempre più autonoma io avrò la necessità di avere una struttura linguistica che mi permetta di scrivere cose sempre più particolate per cui questi sono i due sistemi coinvolti il sistema sensoriale il sistema motorio che si integrano nella grafia e nella scrittura ora iniziamo però a vedere tutti quelli che sono i prerequisiti della grafia per poter capire la scrittura allora i prerequisiti perché parliamo di prerequisiti perché ognuno di noi ha necessità di maturare delle strumentalità quelle strumentalità che poi ci permetteranno di scrivere senza difficoltà ma sono strumentalità che dipendono soprattutto prima vedendo i sistemi l'abbiamo quasi anche intuito da quello che è stata la maturazione e l'evoluzione del nostro corpo per cui proviamo a iniziare a vedere quali sono i prerequisiti fondamentali per poter scrivere allora il primo è il controllo di capo e di spalle il secondo è la posizione seduta stabile un terzo il tono muscolare la convergenza visiva la dominanza cerebrale la corretta presa di mano il controllo del polso la pressione del polso la coordinazione occhio-mano la continuità sul compito il controllo del segno l'orientamento nello spazio foglio l'orientamento nella riga e nel quadretto questi sono tutti i prerequisiti fondamentali che ogni bambino prima di accedere alla scuola primaria dovrebbe acquisire ahimè per i nostri bambini spesso questo non è possibile per cui noi arriveremo in primaria con alcuni gap e alcuni di questi gap sarà molto difficile se non quasi impossibile superarli per cui dovremmo trovare delle strategie per cui poi vi dirò il perché di alcune proposte rispetto ad altre per poter lavorare in parallelo su un livello possibile senza aver maturato tutti questi prerequisiti però iniziamo a vederli ad uno ad uno in modo tale da poterli capire e poter capire anche il perché alcune cose spesso per i nostri bambini non è possibile farle allora la prima cosa è questa il controllo di capo e di spalle allora controllo di capo e di spalle significa avere un'ottima mobilità della nostra testa significa riuscire a sorreggersi e significa quindi avere una primissima gestione del nostro corpo questo è fondamentale è un prerequisito che bene o male tutti riusciamo a maturare la posizione seduta stabile allora è importante per poter scrivere essere seduti composti seduti composti non significa stai seduto bene perché l'adulto ti deve veder seduto bene ma significa star seduti comodi significa per un bambino non far fatica a star seduto e per non far fatica a star seduto io ho la necessità di riuscire ad appoggiare bene i piedi al pavimento per cui questa è la prima caratteristica l'appoggio dei piedi al pavimento che deve essere ci deve essere la seconda è quella di avere le ginocchia un po' più rialzate rispetto al bacino rispetto alla cresta iliaca qui avete visto questa pallina che si è mossa che non si è mossa così velocemente però che si è mossa perché le ginocchia devono essere quell'attimino più alte rispetto all'appoggio del mio bacino della mia cresta idiaca proprio perché questo mi permette di scaricare il peso altra cosa molto importante è il tavolo il banco il banco non deve essere né troppo alto né troppo basso ma deve essere in una posizione tale per cui io non debba forzare le mie spalle per poter scrivere qui significa avere la possibilità di reggere per molto più tempo un compito che diversamente invece sarebbe un compito molto difficoltoso e molto difficoltoso faticoso soprattutto e che mi richiederebbe un sacco di energie altro prerequisito un tono muscolare adeguato allora tono muscolare adeguato significa avere una muscolatura sufficiente che mi possa permettere di usare le braccia senza fare fatica le braccia i polsi le mani senza far fatica per cui significa avere un tono muscolare che non che regga lo sforzo tante volte noi ci ritroviamo già ancora prima della primaria ma soprattutto durante la primaria ad allenare i nostri bambini a stare per esempio appese alla sbarra oppure oppure ripropiniamo un po' di strisciamento ai nostri bambini proprio perché questo va ad alleggerire lo sforzo dell'uso eh delle mani soprattutto per poter scrivere eh avere un tono significa adeguato significa eh reggere la fatica per molto più tempo scrivere è molto faticoso ed essendo molto faticoso eh con tutti i fattori di distrazione presente io eh tendo soprattutto a eh cercare eh altri appigli eh oppure altri interessi per poter deviare dalla scrittura per cui il fatto di essere bene allenato per ogni bambino e avere un buon tono muscolare per ogni bambino significa soprattutto reggere e rendere bella eh un'attività che spesso all'inizio non lo è per niente perché richiede una fatica di un certo tipo la convergenza visiva è un altro prerequisito alla grafia allora che cos'è la convergenza visiva provate a pensare quando un oggetto vi si avvicina agli occhi allora i vostri occhi eh si avvicinano l'un con l'altro mh mantenendo lo sguardo sull'oggetto che si avvicina e che si allontana questo è importante perché perché quando i vostri occhi vedono questo oggetto che si avvicina avvicinandosi gli uni all'altro lo vedono come un unico oggetto il fatto di vederlo come un unico oggetto e il fatto di riuscire a mantenere e a trattenere questo avvicinamento degli occhi eh permette a tutti noi di non affaticarci quanto dobbiamo per tanto tempo osservare un'immagine osservare un paesaggio osservare un volto osservare anche una parola scritta o mantenere la mano su scusatemi gli occhi su una mano che sta iniziando a scrivere o che sta colorando per cui il fatto di riuscire o di aver maturato scusate molto meglio di aver maturato questa competenza questa capacità è fondamentale proprio perché eh o meno faticamenti visivi e riesco a mantenere l'attenzione per molto più tempo su quello che sto facendo il rischio è avere 50.000 distrazioni ma non perché voglio distrarmi ma perché se tutte le volte per agganciare un'immagine una parola o una mano che sta colorando o uno spazio su cui io sto lavorando i miei occhi devono continuamente resettare quindi alzare la testa si alza per resettare così lo sguardo e poi riprendere l'attenzione visiva su quello che sto facendo per tante 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 volte e questo crea un affaticamento altra cosa molto importante ecco consideriamo anche questo punto che è fondamentale allora nella sindrome del criduschat noi abbiamo trovato pochissimi bambini che convergono a livello visivo siamo per quasi tutti i bambini in presenza di uno strabismo che sia leggero che sia invece consistente comunque c'è per cui questa convergenza che spesso manca è un fattore di impedimento spesso e volentieri su una scrittura che spesso manca ok per cui il fatto di non riuscire ad usare anche gli occhi bene mentre un bambino sta scrivendo significa avere delle difficoltà all'approccio alla scrittura altro prerequisito fondamentale per la grafia è la dominanza allora la dominanza che cos'è ad un certo punto della vita ogni essere umano si lateralizza o a destra o a sinistra diventerà completamente destroso o completamente mancino questo è importante è importante perché perché il nostro cervello prima di tutto risparmia energie seconda cosa importante è che il fatto di essere o completamente destrosi o mancini permette di rendere molto più ogevoli alcuni movimenti che non lo sarebbero per cui una mano diventa molto più agile dell'altra l'altra supporta i movimenti è agile anche l'altra ma ci mette magari un decimo di secondo di più però una mano è scelta per poter scrivere per poter colorare rispetto all'altra quant'è che parte questo processo questo processo parte all'età dei tre anni tre anni e mezzo ed è un neurologici ed è un processo che parte dall'occhio per cui il primo organo che si lateralizza e che ci permette di capire se un bambino scriverà con la mano destra o con la mano sinistra lo si vede dall'occhio perché è l'organo paradossalmente più vicino al cervello per cui cosa succede che sapendo quello che sarà l'occhio il bambino poi conseguentemente attiverà la mano destra o sinistra attiverà il piede destro o sinistro verso i sei anni e mezzo o sette attiverà l'orecchio destro o il sinistro verso i sette anni e mezzo o otto neurologici cosa vuol dire può essere che nei nostri bambini questo avvenga molto dopo può essere che avvenga quattro anni può essere che avvenga cinque può essere che avvenga sei può essere anche che a sette anni non ci sia ancora cronologici non ci sia ancora una dominanza certa cioè per esempio se dovessimo chiedere ai nostri bambini facendo un buco in un foglio adesso trovo tolgo un attimino interrompo la condivisione eccomi facendo un buco come questo in un foglio a quattro dicesse al bambino guardami nel buco eh prova mettiti così mi vedi allora tanti riescono subito a centrare l'occhio dominante altri invece ci mettono un po' altri ci cacciano dentro il naso altri eh non riescono a portare il foglio all'occhio cioè tutte queste cose da vanno a significare il fatto che eh probabilmente non c'è ancora una dominanza acquisita significa quindi che dobbiamo ancora ritornare a lavorare a livello motorio anzi prima cosa importante una visita dall'oculista non fa male proprio per capire se questo bambino ci vede bene oppure no perché se è un bambino con un deficit a livello di visus magari è quello dopodiché la cosa importante è ritornare a lavorare a livello motorio proprio per riuscire a renderlo eh il più velocemente possibile lateralizzato lateralizzato vuol dire dare la possibilità a lui di avere una scelta che renda la vita e tutti gli atti motori molto più semplici e molto più agili allora qua ecco qua altro prerequisito che è stato spiegato questa mattina molto bene è la corsa in schema crociato allora la corsa è il fulcro il fulcro è l'attività anzi scusatemi la funzione più alta a livello motorio dell'essere umano dove l'essere umano libera tutti gli arti e rende il corpo sempre più armonico e sempre più idoneo e idoneo per poter compiere attività sempre più complesse nella corsa le braccia sono completamente liberi rispetto al corpo e le braccia si muovono indipendentemente rispetto al corpo è logico che questo permette di avere una certa libertà e di fare molta meno fatica quando si colorerà quando si scriverà proprio perché il fatto di non avere le braccia legate significa fare meno 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 fatica Fabio c'è una domanda sì prego Daniela sì io volevo chiedere riguardo alla dominanza come mai ci sono alcuni bambini che usano come mano dominante la destra per esempio e come piede dominante il sinistro allora ci sono alcuni bambini che magari hanno raggiunto la dominanza della mano ma non hanno ancora raggiunto la dominanza del piede cioè per cui allora usano a voi sembra che usino il piede sinistro ma usano il destro perché stanno in appoggio completamente sul destro perché è quello che regge molto di più il corpo cioè quando calci devi sbilanciarti se tu non hai un buon equilibrio non hai ancora maturato la dominanza della gamba spesso e volentieri e lo si nota soprattutto nei bambini di tre anni comuni che cos'è che fanno che non calciano con il piede con cui stanno iniziando a colorare ma calciano con l'altro perché perché il piede che mantiene l'appoggio è quello che regge molto di più il peso rispetto all'altro poi c'è chi invece c'è chi invece sta colorando sta scrivendo con una mano che potrebbe non essere quella dominante però quello è tutto un altro discorso bene grazie ok ci sono altre domande Alida il volume Alida brava e volevo chiederti l'ipoplasia del cervelletto e la lassità dei legamenti possono creare problemi a scrivere? allora il cervelletto ha un ruolo fondamentale soprattutto nella coordinazione a livello di equilibrio di tutti gli atti motori in input in output per cui che cosa vuol dire? vuol dire che una lentezza delle informazioni in ingresso e in uscita non mi permette di essere molto veloce e rapido in tutti quelli che sono i movimenti che qualsiasi essi siano che mi fanno acquisire informazioni ma anche che mi permettono di usare strumenti cioè per cui potrebbe avere difficoltà nell'uso del cacciavite piuttosto che nell'uso delle posate piuttosto che nella scrittura certo più lentezza ok la lassità allora per esempio nella sindrome di Down nella trisomia 21 allora tutti i ragazzini i bambini hanno lassità legamentosa e hanno un ipotono tremendo però non è che avendo questa lassità non scrivono anzi scrivono benissimo se riescono a maturare tutte quelle che sono le strumentalità che permettono di arrivare alla sgrafia altro Daniele no possiamo proseguire allora proseguo per cui dalla corsa altro prerequisito è la corretta presa di mano allora la corretta presa di mano io adesso vi faccio vedere tante impugnature scorrette allora questa corretta presa di mano dipende da tantissimi fattori il primo fattore fondamentale e che spesso e volentieri ci riguarda è un fattore che dipende dalla percezione tattile per cui se io non ho una buona percezione tattile alla mia mano qualsiasi strumento tengo in mano cercherò e tenderò di stringerlo il più possibile per poterlo sentire se voi avete una mano in formicolata cioè la cosa che fate è per poter sentire quello che toccate spingete o date pressione sulla cosa che volete sentire o meglio prima ve la pizzicate dopodiché provate ecco la cosa che tanti dei nostri bambini fanno è quella di impugnare scorrettamente ma proprio perché non sentono non sentono il pennarello non sentono la matita non sentono la biro non sentono il gessetto piuttosto che il pastello cera in mano per cui stringono 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 altra cosa importantissima è dettata soprattutto dal tono delle spalle dalla corsa tanti dei nostri bambini tendono a scrivere ancora prima di aver appreso e maturato una corsa funzionale per poterlo fare fate conto che se voi entrate in una scuola dell'infanzia voi vedete che bambini comuni all'età dei tre anni comunque quasi tutti corrono e quasi tutti hanno le braccia già libere dal corpo e nonostante questo hanno una coloritura che non è sufficiente rispetto a quello che è il loro movimento ma questa coloritura migliorerà sempre più nel tempo quando quando la corsa diventerà sempre più sofisticata e lateralizzata per noi le cose si fanno molto più complesse si fanno molto più complesse perché perché ci ritroviamo di fronte a tante incapacità o a tante impossibilità di arrivare ad una corsa funzionale per poter scrivere ciò nonostante allora dobbiamo spezzare una lancia perché sono tantissimi i bambini i ragazzi soprattutto che hanno voluto e che stanno spingendo sulla scrittura anche con la matita anche con la biro proprio perché è un qualcosa che è desiderato ed è paradossalmente molto piacevole e sta dando un sacco di risultati è vero è vero ci sono tecniche di facilitazione di prompt che ti permettono di rendere più agevoli il movimento però la cosa importante è che ci sono ci sono allora qui voi vedete tantissime impugnature scorrette queste sono tutte impugnature dettate da un'immaturità motoria soprattutto sistemata l'immaturità motoria tutto si sistema allora la prima cosa è importante è capire se la corsa è matura la seconda cosa importante è capire se le mie mani sentono bene l'oggetto quando ce l'ho in mano e una cosa che è possibile fare è tutto il lavoro sulla stereognosi per esempio che è un lavoro che permette alle mani di diventare sempre più sofisticate nel riconoscimento degli oggetti la stereognosi per chi non lo sapesse è un'attività fatta con un sacchetto e due oggetti che possono essere più o meno comuni che cosa succede che il bambino con la mano entra nel sacchetto e su richiesta dell'adulto estrae un oggetto rispetto ad un altro ma nel mentre lo estrae subentrano tutte quelle attivazioni che permettono al bambino di etichettare di vedere di sentire l'oggetto che deve per forza estrarre perché è richiesto per cui il bambino sente che l'oggetto è più o meno consistente inizia a vederlo anche se non lo vede perché se la mano nel sacchetto è a vicolo cieco per cui tutto questo lavoro è funzionale un altro lavoro funzionale e che questa mattina di cui questa mattina è stato parlato tantissimo è l'uso delle mani soprattutto per mangiare è vero allora noi ci troviamo un'età molto complessa per poterlo permettere ai nostri ragazzini però ci sono bambini che hanno appena iniziato la primaria e che non ancora usano bene le mani per fare tantissimi altri lavori molto più semplici rispetto a quelli della scrittura e mangiare con le mani è altamente funzionale poi è logico che ad un certo punto non lo si farà più però finché è possibile proporlo è un qualcosa che aiuta e che agevola provate a pensare quando voi prendete un cibo più o meno grande più o meno consistente più o meno scivoloso o viscito con le mani che cos'è che fate voi andate a vedere dov'è il cibo portate la vostra mano verso quel pezzettino che dovete prendere aprite la mano dovete riuscire a prenderlo chiudete la mano lo dovete sentire a questo punto che cosa succede lavorate sul polso il polso gira gira e permette alla mano di indirizzare il cibo verso la vostra bocca questo è è un lavoro molto sofisticato non solo quando il cibo è in prossimità della bocca la mano si apre quello che non si fa ed è un lavoro molto più sofisticato ed è un lavoro che non si fa più con le posate perché con un cucchiaio con una forchetta mi basta anche guardare da tutt'altra parte e qualcosa raccolgo e metto in bocca ok per cui cioè sono tante le cose che possono essere usate come stimolo per migliorare l'uso delle mani ma andiamo avanti allora io qua vi ho fatto ecco altra cosa importante rispetto a quello dell'impugnatura è attenzione a ciò che viene usato per l'impugnatura perché allora è vero il pastello a cera è il più semplice in assoluto però spesso sono i pennarelli gli strumenti più usati qual è il problema però del pennarello che noi ci ritroviamo pennarelli che talvolta sono troppo grandi troppo lunghi troppo spessi per cui con un diametro molto importante e se io faccio fatica a colorare a scrivere avere uno strumento in mano molto pesante non mi permette di agevolare il movimento per cui cosa significa è come se noi scrivessimo con il manico di una scopa è la stessa identica cosa per uno dei nostri bambini per cui avere uno strumento più piccolo è quello che permette a lui di fare meno fatica e magari di essere molto più concentrato su ciò che sta facendo rispetto alla fatica della coloritura io qui vi ho messo tre tipi di pennarelli è vero in uno si vede la marca ma chi se ne frega la cosa però importante è vedere le differenze nonostante le punte grandi che ci possono essere tra diversi pennarelli per cui voi potete vedere che la stessa punta grande la possiamo avere in un pennarello molto lungo e con un diametro importante rispetto che su altri pennarelli un po' più piccoli ecco per qualcuno dei nostri bambini è importante anche riuscire a capire se il rumore di un pennarello che colora dà o meno fastidio noi siamo in presenza anche di un'iperacusia e quest'iperacusia spesso ti fa distrarre su tutte le cose e il rumore di alcuni pennarelli è molto più fastidioso rispetto ad altri altri pennarelli poi puzzano per cui noi ci ritroviamo spesso anche di fronte a pennarelli che per alcune marche van bene per alcuni bambini per altri invece no perché proprio l'inchiostro è presente è un inchiostro che puzza più degli altri noi adulti non lo sentiamo ma i nostri bambini che sono molto sensibili a questo lo sentono e come per cui su questa cosa per ogni bambino bisogna fare un discorso che è un discorso molto personalizzato andiamo avanti ecco qui io vi ho messo una cosa un po' ridicola però è carina da vedersi cioè è un calzino il calzino il calzino perché voi vedete che questo calzino ha due buchi in questi due buchi ci devono passare il pollice e l'indice quando passano il pollice e l'indice da questi due buchi allora l'impugnatura diventa precisa e perfetta perché perché le altre dita sono rinchiusi nel calzino bello stretto e il calzino deve essere bello stretto bisogna fare tutti gli orli attorno in modo tale che non si sfilaci però questo che cosa permette permette al bambino di avere subito un'impugnatura corretta per la coloritura soprattutto quando già dall'inizio voi vedete che l'impugnatura è scorretta non è detto per una questione di maturazione motoria che andremo a correggere l'impugnatura la cosa però importante è che ci si può provare perché rende il lavoro molto più agevole tante volte in commercio vi trovate gommini vi trovate palline vi trovate adesso ho visto anche due anellini dove vengono infilate le dita per allora a me hanno insegnato sempre questa cosa e questa cosa me l'ha insegnata la mia maestra presente qui che ciò che funziona di più solitamente è ciò che troviamo nelle nostre case a costo zero e questo ci permette un attimino di attivarci molto più facilmente e di riuscire senza spendere soldi a sistemare o a migliorare un problema che che c'è che c'è ecco dobbiamo muoverci un attimino di ingegno spesso e volentieri non siamo noi tecnici a scoprire che cosa funziona di più sui bambini ma siete voi genitori per cui ci state dando una gran mano e questo ne è un esempio e cioè il calzino ok vado avanti allora altro requisito della grafia è il controllo del polso la pressione del polso allora qui iniziamo a parlare un attimino di tutto quello che poi sarà fondamentale per poter colorare per poter colorare e quindi tutte le coloriture ok per controllare il polso per la pressione del polso è importante il tono muscolare prima avete visto il bambino appeso ok tanti dei vostri bambini hanno lavorato e stanno lavorando anche sulla scala orizzontale non solo per il cammino ma stanno lavorando sulla scala orizzontale anche perché questo ci permette di migliorare il tono muscolare delle spalle ma anche l'apertura la chiusura della mano per cui tutto il controllo della mano nel prendere il piolo e nell'alternare le braccia nella presa dei pioli ok una volta che tutto il tono muscolare è ben formato allora si passa si passa a tutti quelli che sono gli esercizi di coordinazione occhio mano e qui ne vedete alcuni come i telai della Montessori ma soprattutto passeremo alle coloriture le coloriture allora i telai della Montessori li conoscete già tutti vi ne ho messo un esempio allora questi sono importanti sono importanti per le autonomie ma sono anche importanti perché selezionano sempre di più le dita e selezionando sempre di più le dita ciò permette ai nostri bambini di essere molto più agili e più veloci in tutti quelli che poi saranno i lavori di coloritura che porteranno alla scrittura le coloriture ci sono domande? per ora no Fabio ok per cui vado avanti allora le coloriture allora per allora è nato prima l'uovo la gallina allora molti molti si affidano ai disegni allora noi noi preferiamo affidarci nella nostra esperienza alle coloriture più che ai disegni perché perché la coloritura rispetto al disegno è un lavoro è un'attività nella coloritura ci sono delle regole ben precise che ti permettono eh di allenarti sulla gestione di uno strumento tante volte i bambini eh imparano e disegnano e non solo l'altra cosa importante è che se un bambino colora bene colora tanto desidera disegnare ciò che non succede invece con i disegni il disegno è un gioco il disegno da un bambino può essere fatto così come lui vuole io posso anche dare un tema al disegno ma non posso metterci mano nel disegno proprio perché è un'attività privata è un'attività più che un'attività è un momento privato ed è un qualcosa che eh esprime eh c'è un certo pensiero una certa modalità di qual è il problema che per tanti dei nostri bambini la maturazione del disegno avviene molto 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 in là per cui è importante soffermarci soprattutto all'inizio sulla coloritura perché sappiamo che quando un bambino inizia a colorare bene questo dà lo slancio per il disegno tant'è vero che dopo un tot di migliorie nella coloritura iniziamo a vedere per esempio i primi omini iniziamo a vedere le prime case iniziamo a vedere ehm la prima strutturazione di un disegno eh comprensibile a tutti ok per cui dalla coloritura noi preferiamo partire quando allora di solito si parte eh quando almeno eh pensiamo che il bambino abbia lateralizzato una mano rispetto a quell'altra per cui da lì partiamo impostando l'impugnatura impostando tutta la coloritura la coloritura quindi è un processo che inizierà molto lentamente è un processo un percorso che eh tenderà a dare un allenamento e che aiuterà il bambino a capire delle regole di inizio e di fine del lavoro colorare che cos'è che si cosa significa colorare significa coprire tutti gli spazi bianchi coprire tutti gli spazi bianchi eh è importante perché perché per l'essere umano per gli adulti eh eh dà significato a al termine stesso e cioè tante volte noi abbiamo dei bambini a cui diciamo bravo colora questo disegno fa uno scarabocchio e vuoi dire ma scusami coloralo bene e il bambino ti dice ma io l'ho colorato ma coloralo bene a questo punto che cosa significa per il bambino colorare bene per il bambino colorare bene significa e deve significare colorare coprire tutti gli spazi bianchi coprire tutti i bianchini non lasciare un bianchino in quello spazio che deve coprire eh come portiamo i bambini a colorare allora è logico che non si può partire da un foglio a tre come non si può partire da un cartellone gigante ma noi dovremmo partire da piccoli pezzettini di cartoncino da coprire completamente lo si può fare con le tempere lo si può fare con i pennarelli attenzione però non con il pennello e le tempere la con le tempere conviene usare un pezzettino di legno anzi un retta un sì un pezzo di legno della dimensione delle vecchie cassette musicali avete presente ve le ricordate ancora le vecchie cassette musicali benissimo a cui possiamo limare un angolo e attaccare un po' di spugna questo potrebbe essere il pennello per il bambino dove lui deve intingere e coprire tutto uno spazio il primo obiettivo è far capire al bambino che cosa significa coprire qui ecco è un po' offuscato ma è l'immagine che ho trovato ieri sera che vi ho messo allora ci sono tanti pezzettini voi vedete che sono di diverse dimensioni io posso usare questi quadrettini come se fossero tasselli di mosaico io posso chiedere al bambino di colorare un pezzettino per volta e poi dare un significato alla sua coloritura la motivazione dovrà essere ricercata dall'adulto che fa lavorare il bambino se io ho un'immagine più o meno grande e so che il mio bambino riesce a colorare un quadratino ok benissimo quasi tutta questa immagine la colorerò io lascerò uno spazio bianco in cui il bambino attaccherà il suo quadratino colorato del colore a cui io avrò deciso che lui colorerà quando diventerà molto più abile allora potrò utilizzare molti più di questi quadratini come facciamo colorare il bambino su questi quadratini possiamo per esempio prendere delle di buste trasparenti attaccare il quadratino sulla busta trasparente all'interno di questa busta trasparente noi potremmo mettere un foglio Bristol tipo di un colore scuro come può essere un verde scuro un marrone scuro un blu non nero la cosa importante è che non sia nero però un colore scuro anche perché il colore scuro mi permette di vedere il quadratino bianco meglio ma non mi acceca perché il nero risalta troppo il bianco per cui deve essere un qualcosa che non ti infastidisca ma che ti permetta di vedere il quadratino bianco questo quadratino bianco attaccato con un po' di scotch al centro deve essere colorato il bambino allora che cos'è che fa o col pennarello o con la tempera con il mattoncino che vi ho spiegato prima intinge o prende il pennarello e inizia a colorare può uscire tranquillamente dal quadratino può anche colorare tutta la busta all'esterno non è un problema attenzione non è un problema perché perché l'obiettivo in questo preciso momento per il bambino è quello di coprire gli spazi bianchi se anche esce nessun problema fa parte dell'apprendimento per cui il bambino colora copre tutti gli spiazzi nel mentre noi possiamo ricordare attenzione visto qua che c'è un bianchino qua c'è un altro qua c'è un altro colorato tutto allora che cosa si fa si stacca il quadratino lo si mette in disparte si toglie il foglio bristol dalla busta e come per magia eh tutti i segni lasciati al di fuori del quadratino vengono visti per cui ehm il fatto di essere uscito sarà utile adesso per far vedere al bambino che ha colorato fuori come prendendo un pezzettino di scottex o di carta sorbente imbevuta con un po' d'acqua e chiedendogli ascoltami adesso pulisci bene la busta trasparente che poi ne facciamo un altro cioè per cui che cosa è che succede che a questo punto il bambino non è più attento a tenere in mano lo strumento e a colorare ma è attento a livello visivo ai particolari che ha tralasciato cioè a tutto il colore è uscito per cui lui con una mano tiene il pezzo di scottex e pulisce tranquillamente qui facciamo un duplice lavoro lavoriamo sull'attenzione manuale della coloritura e lavoriamo sull'attenzione visiva Fabio c'è una domanda il quadratino finisco e poi te la lascio fare il quadratino colorato potrà essere usato per riempire il nostro mosaico preparato precedentemente esempio adesso è Natale dobbiamo colorare un albero di Natale o gli addobbi dell'albero di Natale benissimo allora a questo punto i miei quadratini serviranno per questo domanda Alida volevo sapere è possibile che un bambino colori con una mano e scriva con l'altra e una seconda domanda quanto devono essere grandi i quadratini allora il primo bambino allora questa cosa è possibile ma quando ma quando c'è questo questo problema tra virgolette è perché il bambino non è ben lateralizzato perché il bambino ben lateralizzato usa solo la destra o solo la sinistra i quadratini quanto devono essere piccoli devono essere sufficientemente piccoli perché possano essere coperti dal bambino a cui vengono proposti per cui si può partire anche da quadratini di un centimetro per un centimetro fino ad arrivare a 10 per 10 ok grazie vi faccio vedere due cose bellissime allora uno un albero è stato fatto da genitori dell'ABC un altro albero no però alla fine rende l'idea questo allora i genitori hanno delle idee eccezionali cioè perché riescono a trovare la motivazione e siamo proprio nel tema del Natale per poter far colorare i bambini allora cioè adesso è Natale per cui benissimo facciamo le palle di Natale invece di fare un albero e lo si può fare tu farai il tuo albero con le tue coloriture in base alla grandezza e alla dimensione dei quadratini o dei tondi qui avevano fatto abbiamo colorato i primi quadratini e poi avevano li avevano ritagliati allora andremo a definire come devono essere grandi gli spazi da colorare e poi andremo ad appiccicarli sull'albero per esempio sul primo che voi vedete alla vostra sinistra che è quello con le palle di Natale allora la bambina che l'ha fatto colorava sei quadrati al giorno ne sceglieva uno veniva ritagliato e poi quello e veniva attaccato gli altri venivano messi in disparti usati per altro per cui lei sceglieva quello più bello che tutto sommato erano tutti uguali però di fondo per lei quello più bello era questo e questo veniva attaccato l'altra invece è stata un'idea eccezionale di un'altra famiglia della BC che ha usato la stessa tecnica per fare l'albero di Natale e poi invece ha deciso ok andiamo verso Pasqua usiamo lo stesso albero ci facciamo i coniglietti ci facciamo le uova i cuoricini tutto quanto e andiamo ad abbellire un qualcosa che non è relativo a Natale ma che tutto sommato è per questo e per cui il fatto è scusate un'interferenza per cui questa cosa di fondo mi ha permesso di lavorare nello stesso identico modo in due momenti diversi i due momenti diversi i due periodi diversi in due stagioni diverse però per me sono allenamento se voi vedete il secondo è altamente sofisticato è molto più complesso voi vedete delle coloriture che hanno un doppio colore ok per cui è molto più difficile rispetto al primo però è stato fatto e queste sono veramente le intuizioni che si possono mettere in campo in base al bisogno vado avanti allora dalla coloritura fatta così per riempire gli spazi quindi alla comprensione di che cosa significa la coloritura allora si deve arrivare a riuscire a far capire i limiti entro i quali stare quando si colora uno degli esercizi che di solito viene usato è quello delle mascherine degli stencil con le mascherine con gli stencil semplice cartoncino della pasta piuttosto che delle scatole delle scarpe piuttosto che nel quale viene ritagliato un'immagine dalla più semplice alla più complessa in queste con questi cartoncini il bambino deve colorare sempre più o meno le stesse identiche dimensioni ma da questi stencil uscirà un'immagine ben definita che poi verrà contornata con il pennarello nero la mascherina perché è importante la mascherina è importante perché quando io coloro all'interno di uno stencil tutte le volte che il mio pennarello prende contro al margine dello stencil l'occhio vede dove sono uscito con il pennarello o dove sto uscendo con il pennarello per cui quest'occhio mi permette un maggior controllo di coloritura e permette alla mia mano di rallentare il tratto o di colorare in modo più deciso in determinati spazi migliorando il movimento fluido per colorare vedere i contorni è fondamentale vedere gli spazi è fondamentale proprio perché questo mi permetterà ad un certo punto di colorare immagini sempre più strutturate ecco qui ci sono degli esempi ma li abbiamo fatti un po' così a caso ma proprio per dimostrarvi vedete che è proprio un bristol e non è un cartoncino servono invece cartoncini un po' più alti un po' più spessi scusate e ben più definiti cioè voi siete molto più bravi del sottoscritto ecco qui adesso l'attenzione va sulla continuità del compito allora che cosa significa io non posso dare un compito troppo oneroso ad un bambino che non lo regge la domanda che ha fatto la mamma della Sofia è stata una domanda importantissima perché lei dice ma quanto devono essere grandi i quadratini allora in base a quanto il bambino riesce in base alla sua tenuta si dovrà decidere quanto dovrà colorare per quanto tempo o in quanti momenti della giornata dovrà colorare e quanto deve essere grande lo spazio da colorare perché questo perché è molto più importante fermarsi prima e fare in modo che il bambino sia soddisfatto delle cose che ha fatto piuttosto che fare tutto subito è una cosa molto grande e non far finire il lavoro è molto importante quindi che il messaggio che passa già dall'inizio sia un messaggio di continuità sul lavoro e che permetta al bambino di portare a termine tutte le cose che gli vengono presentate perché perché sono al suo livello essendo al suo livello lui tranquillamente riuscirà a reggerle e avrà una soddisfazione questa è una soddisfazione che poi si ripercuoterà nel tempo e si ripercuoterà nel tempo perché perché vorrà finire vorrà finire sempre tutto imparerà che i lavori non vanno lasciati a metà su questo però dobbiamo essere bravi noi per cui c'è da fare una coloritura prima si fa la pipì e poi ci si mette a fare la coloritura se voi vedete che la coloritura può essere fatta in un arco di tempo della giornata idoneo la si fa fare ma se vedete che è troppo in prossimità per esempio che è troppo in prossimità per esempio della merenda la cosa invece importante è quella che la merenda venga fatta prima e poi la coloritura o se vediamo che la coloritura dura pochissimo nel tempo allora a questo punto io ti farò fare una coloritura veloce 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 per poi farti merenda ecco qui i tempi saranno decisi dai genitori saranno decisi dagli insegnanti saranno decisi dagli educatori o da chi lavora con il bambino e saranno tempi idonei che permetteranno di portare a termine un lavoro con molta più facilità certo allora mai dire a un bambino sbrigati muoviti finisci allora dalla regia e ha detto una cosa importante avete sentito? allora sì perfetto l'errore che noi adulti facciamo è attento guarda bene dai muoviti sbrigati finisci in fretta no e armarci di santa pazienza è fondamentale possibilmente colorare di fianco e eh sì è vero e possibilmente per chi riesce perché spesso e volentieri non siamo così bravi noi adulti a colorare di sicuro non siamo bravi come i nostri bambini colorare di fianco a loro proprio perché mentre un adulto colora di fianco al bambino può dire io sto facendo questo fallo anche tu lo finiamo assieme ecco per tanti bambini quando vedete che avete sbagliato a dare una quantità di lavoro recessiva può essere per esempio utile chiedere al bambino scusa un attimo ho proprio voglia di colorare posso farlo io un pochetto cioè per cui sostituirci in questo modo ma chiedere al bambino se potete farlo perché questo dà quell'input in più ok domande no per ora no Fabio possiamo andare avanti ok reggete posso tirare perfetto allora andiamo avanti allora lo step successivo è una coloritura strutturata è la classica coloritura commerciale che voi potete trovare che ne so in edicola piuttosto che allora il problema però qual è è alla base a livello visivo e cioè noi non possiamo dare un foglio troppo grande ad un bambino da colorare non solo l'altro problema che di solito si ha con i nostri bambini è dare un ordine alla coloritura ecco questo disegno è sbagliato perché voi vedete dei numerini posizionati in modo diverso rispetto alle coloriture di destra ma fa lo stesso cioè adesso vi renderò un attimino meglio quella che è l'idea e allora dare un ordine alla coloritura significa dare un ordine al lavoro con un inizio e con una fine e questo permette di rendere tutto molto più facile e di aiutare il bambino a terminare il lavoro apprezzando il senso del bello proposto tante volte noi compriamo libri libricini questo quell'altro e poi scopriamo che i nostri bambini a casa ne colorano un pezzo girano pagina ne colorano un altro girano pagina ne colorano un altro ecco questa non è coloritura perché questo non ti aiuta a colorare ad imparare a colorare e talvolta l'altro problema che si ha che con i librettini acquistati il colore traspare o il colore passa dall'altra pagina per cui cosa succede che andiamo a rovinare il tutto perché i fogli sono molto bassi per cui allora dobbiamo strutturare un qualcosa che sia alla portata dei nostri bambini per fare questo è utile usare degli spazi di coloritura sufficientemente piccoli per cui potrebbero essere foglie a cinque ma anche mezzi foglie a cinque perché nella metà del foglio io finisco prima altra cosa è io posso fare tutti i bordi per cui i contorni dello spicchio da colorare possono essere strutturati e possono tranquillamente essere gestiti dall'adulto e il bambino deve colorare soltanto e coprire tutti gli spazi all'interno possono essere dei margini dei bordi fatti di un dito di un centimetro molto spessi quindi dove il bambino deve colorare una minima parte oppure possono essere dei margini molto leggeri e molto sottili dove il bambino tranquillamente in cui il bambino riesce a colorare bene se esce non è un problema non è un problema perché perché noi abbiamo la fortuna di avere un pennarello che è quello nero che ci può permettere di togliere l'errore il pennarello nero gestito bene sui margini sui su tutti i confini della coloritura mi permette di togliere quelle che sono le sbavature di rendere la coloritura un po' più vitrea qui adesso vi faccio vedere alcuni esempi di queste coloriture ecco colorate più o meno bene allora però qua vedete che non c'è il pennarello nero a contorno ma va benissimo ma proprio per rendervi l'idea se io con il pennarello nero adesso avessi contornato tutto l'albero di Natale la vite e gli spicchi allora voi vedete tutte queste uscite di colora non ci sarebbero più state o meglio voi non le avreste viste e la coloritura sarebbe stata molto più bella ai vostri occhi quest'altra colorata molto meglio ma anche quest'altra senza il bordo ecco qui la cosa importante è aiutare il bambino ad uscire sempre di meno con i vostri margini di colore e poi con il pennarello nero togliere un'attenzione data al colore stesso il colore conviene che lo scegliate voi adulti proprio perché in questo modo voi potete aiutare il bambino a definire quelli che sono i ritmi dei colori ad apprezzare un accostamento di colore ma soprattutto a stare alla regola del compito che poi sarà una regola fondamentale usata successivamente nella dettatura piuttosto che da questa coloritura a spazio strutturato molto ampio si giungerà a coloriture un po' più strette un po' più piccole eh tipo tetris dove non è più il polso a muoversi per colorare ma saranno le dita qui non è più il polso a muoversi perché se fosse il polso a muoversi per colorare tutto il colore sarebbe uscito con molta facilità ma sono le dita a questo punto che devono selezionarsi sempre di più anche qui il colore lo può scegliere l'adulto anche qui voi potete scegliere una dimensione più o meno grande di spazi eh da poter proporre ai vostri bambini qui ce ne sono altri esempi un po' più grandi qui vedete che c'è questo cigno centrale che è stato colorato allora eh questa coloritura è molto bella perché inizialmente è delimitata in spazi piccolissimi eh il bambino ha colorato molto bene questi spazi piccoli ad un certo punto non ce la faceva più per cui la mamma che cos'è che ha fatto ha ingrandito gli spazi voi vedete questo verde alto come vedete questo rosso e il cigno stesso è stato colorato tutto insieme per cui quello che si diceva prima rispettare la tenuta dei vostri bambini è fondamentale proprio perché non possono essere forzati su qualcosa che è molto complesso molto oneroso e che richiede una fatica di un certo tipo ok bene o male bene o male fin qui quasi tutti i nostri bambini con la sindrome del cridus chat possono arrivare per cui fino a queste coloriture strutturate noi possiamo tranquillamente lavorare vita natural durante no vita natural durante fino a che il tempo ce lo permetterà e fino a che anche c'è l'attenzione del bambino e la motivazione del bambino ce la permetterà perché giustamente a 16 anni io non lo potrei proporre ok perfetto da qui partirà tutto un discorso un po' più relativo quella che è la scrittura ovvero che è la grafia ovvero tutti gli asteggi voi vi ricordate gli asteggi del 15-18 gli asteggi che quando noi eravamo piccoli magari anche voi tutto quanto a scuola si facevano per poter scrivere correttamente dove l'insegnante ti strutturava un foglio in cui tu dovevi tranquillamente fare i sodatini in piedi fare le sedi i sodatini sdraiati fare le tazze fare i quadrati le salite gli scivoli le cose a zizzag le cornicette le maghi tutte queste cose erano le suore degli asili ecco e con le suore degli asili non si sgarrava per cui tutto questo lavoro che sembrava di una noia pazzesca e di un'utilità inutilità pazzesca e che la scuola primaria ad un certo punto ha boicottato è un lavoro che purtroppo è fondamentale è fondamentale perché perché ti permette di vedere il quadretto è fondamentale perché ti insegna un orientamento del segno nel quadretto ti insegna un orientamento del segno nella riga ti insegna a mantenere tutti quelli che sono gli spazi sulla pagina del quaderno e e e ti insegna anche a fare tutte le lettere uguali cosa che adesso spesso e volentieri non troviamo più nei quaderni di tutti i bambini che frequentano la primaria purtroppo per cui anche solo un minimo di questo lavoro è funzionale per i nostri è funzionale perché è funzionale perché un lavoro del genere è un lavoro altamente ortottico un lavoro spaziale ed è un lavoro che ti aiuta a concentrarti è vero per poco tempo per poco tempo in uno spazio ben definito allora alcuni dei nostri bambini ragazzini sono arrivati a questo e con qualcuno poi è stato possibile fare tutto un discorso per cui qui vedete degli asteggi con margini molto ristretti altri con margini un po' più ampi qua vedete delle sedie i seggiolini delle sedie e vi ho messo soltanto questi per qualcuno dei nostri ragazzi e bambini è stato possibile adesso esco dalla presentazione vi faccio vedere arrivare allora è un attimino che qua io devo uscire da qui ok perfetto arrivare allora ecco qua ad un lavoro di corsivo quadrettato dove usando lo stesso identico schema allora un attimino solo che vi allora un attimo eh allora condividi schermo dov'è adesso dove l'ho messo uno qua lo si vede si vede ok perfetto con qualcuno è stato possibile arrivare subito a fare una proposta di alto livello usando i quadretti perché dopo aver tratteggiato bene e aver capito quello che era l'orientamento del segno sul quadretto è stato possibile trasportare ad un corsivo quadrato per cui giungere ad una scrittura eh più o meno bella insomma ecco per qualcuno non è stato possibile andare sul corsivo ma si è andati direttamente sullo stampato maiuscolo ma non è stato un problema anzi anche perché lo stampato maiuscolo poi può essere usato o è stato usato come lettera maiuscola per il corsivo fatto in un tempo successivo è logico che la domanda spontanea è sempre quella è più semplice lo stampato maiuscolo è più semplice lo stampato minuscolo rispetto al corsivo allora non è vero la cosa più semplice è l'atto di scrittura motorio acquisito per primo cioè per cui che cosa vuol dire che se il mio cervello apprende per primo un certo tipo di scrittura quella scrittura è la più semplice la cosa più complessa invece è presentare tante tipologie di lettere per cui è molto importante a questo punto decidere con i genitori con gli insegnanti come si vuole proseguire nella scrittura poi è una scelta questa che solitamente io non prendo ma si prende tutti assieme per cui se si decide che il percorso più idoneo è uno si va su quello allora a questo punto si useranno i quadretti per apprendere il corsivo si useranno e in questo caso si inizierà con un corsivo quadrato per poi andare al tondeggiante nel tempo perché la velocità lo porterà in tondeggiante oppure si scriverà in stampato maiuscolo sui due quadretti proprio perché i due quadretti ti permettono di vedere bene gli spazi e di rallentare il tratto il più possibile qui è importante andare molto lentamente è importante non accelerare proprio perché fare lentamente tante volte la stessa identica cosa mi manda in memoria un atto con molta più facilità e senza errore ed è più facile anche dall'adulto gestire l'errore ok ok tanti chiedono io tratteggio tratteggio tutte le lettere oppure tratteggio immagini e il bambino ci va sopra e scrive allora non è la stessa identica cosa non è la stessa identica cosa perché io potrei in questo preciso momento porvi sotto gli occhi il cirillico tratteggiato anche per un mese ma voi dopo un mese non avete imparato a scrivere in cirillico perché perché il mio cervello ha bisogno di etichettare un segno a livello motorio e di proseguire con questo segno a livello motorio cioè tutti i passaggi che io vi ho mostrato fino adesso servono proprio per evitare il tratteggio e per aiutare il bambino a seguire un orientamento che poi diventerà sempre più sofisticato e automatizzato e che permetterà di andare a lui in scrittura con facilità e memorizzando il tratto stesso per cui tratteggiare è una cosa bella perché per esempio a tutti i bambini piace che ne so io legare avete presente tutti gli esercizi con i puntini e i numerini ecco piace anche a me nella settimana enigmistica lo vado sempre a ricercare per primo per scoprire che cosa c'è che cosa c'è raffigurato però la cosa più importante è che quello è un gioco e quello non mi dà l'apprendimento della scrittura se io tratteggio anche ventimila volte un abete o un albero di Natale ben addobbato non è detto che io dopo un mese di tratteggio riesca a disegnare lo stesso identico albero ma nemmeno paradossalmente ad immaginarmelo nella scrittura fatta in questo modo con tutti gli asteggi seguendo l'orientamento del segno seguendo il quadretto diventano tutto molto più funzionale ci sono delle domande? oh no non direi Fabio possiamo continuare ok sottolinea che col corsivo usiamo molto più più cannello che con altro tipo di scrittura e l'hanno visto eh per dire anzi col corsivo va bene dalla regia mi dicono di dire che col corsivo usiamo molto più cervello rispetto a tutte le altre a tutti gli altri tratti grafici allora ah scusate un attimo allora non facciamo pausa né tiriamo se ce la facciamo fino alla fine né Daniele in modo tale da finire alle 4 per me va bene va benissimo per voi va bene tutti ormai sono 3 e mezza noi tiriamo allora con il corsivo ecco l'unica cosa è mi devo portare di lì a prendere l'alfabetiere oppure chiedo alla mia valletta presente di andarlo a prendere e la dietro allora cioè in modo tale che allora col corsivo usiamo molto più aree del cervello perché usiamo molto più aree del cervello provate a scrivere una parola in corsivo allora nella scrittura della parola voi non staccate le lettere l'una dall'altra per cui il vostro cervello è perennemente concentrato e attento su uno spazio e c'è un mantenimento del compito questo mantenimento del compito e questo tratto prolungato permette di usare molte più aree non solo non solo la velocità di scrittura deve far accelerare il pensiero cioè quando voi scrivete in corsivo in molto meno tempo avete scritto una parola rispetto ad un altro carattere per cui dovete avere una velocità di pensiero maggiore per poter avanzare nella scrittura cosa che non succede negli altri tratti per quello che noi siamo più intelligenti degli inglesi era una battuta però va bene Fabio c'è una domanda è da cancellare perché altrimenti è un disastro non solo non solo a livello motorio viene attiva ah no aspetta vieni qua girati arrivo scusate ho la fisioterapista a livello motorio viene memorizzata la parola non le singole lettere per cui quando noi per esempio abbiamo un dubbio su come si scrive una parola nel momento in cui la scriviamo sappiamo se ha due te due que che cosa come diavolo deve essere fatta per cui la memorizzazione è completamente diversa perché è memorizzata tutta la parola è per questo per esempio che nei dettati soprattutto prima seconda elementare il dettato a scuola deve essere fatto senza errori per cui la maestra deve anticipare l'errore dice cavallo con due l in modo che il bambino riesca sempre a memorizzare tutta la parola senza errore c'è una domanda Fabio sì prego oh Piera la dici tu che cosa il mio problema è sempre l'audio non so se mi sentite allora la leggo io Piera sì grazie Daniele c'è un'età migliore per iniziare questo lavoro questo tipo di lavoro sì quando allora l'età migliore è quando uno è pronto cioè non c'è un'età migliore rispetto ad un'altra quello che si è detto un attimino prima è il fatto che se ci sono le basi neuromotorie per poter colorare per poter scrivere lo si fa se non ci sono è molto complesso però però alla base cioè allora l'esperienza di questi anni ci sta dimostrando come tanti dei nostri ragazzini hanno provato lo stesso senza un livello motorio così soddisfacente hanno provato a scrivere e hanno provato a scrivere con un prompt con una facilitazione facilitazione non è stato altro che l'ausilio della mano dell'adulto sul polso o sul braccio del bambino questo che cos'è che ha permesso ha permesso al bambino di sentire molto meglio quella che è la sua mano e ha permesso al bambino aspetta e ha permesso al bambino di allora facciamo vedere vedete la mia mano aspetta un attimo eh che interrompo la condivisione ok allora scriviamo sale io non non lo guido ma aiuto a bloccare il segno blocca cioè il fatto di avere una pressione sulla mano eh in presenza di una disprassia ormai cioè consolidata mi permette di non avere dei movimenti ehm sbagliati eh e mi permette di controllarmi meglio perché questo mi fa sentire molto di più la mia mano qual è il problema qual è il problema è che allora spesso dobbiamo avere una richiesta da parte del bambino o da parte del ragazzino per poterlo fare perché eh se non abbiamo una motivazione sufficiente da parte sua eh allora il lavoro diventa molto pesante l'altra cosa importante da tenere in considerazione è che può essere fatta eh ma l'adulto dovrà cercare nel tempo di spostare sempre di più la sua mano dalla mano del bambino cioè in modo tale che nel tempo dovrà essere il bambino sempre più cioè dovrà essere il bambino a diventare il più autonomo possibile questo cioè in un percorso di scrittura è possibile serve tantissimo tempo serve tantissimo tempo però è stata una proposta fattibile allora eh all'inizio devo dirvi questa cosa anche con Pedrinazzi ma anche discutendo con Stangalli noi ci siamo sempre detti è una perdita di tempo però eh non è vero non è vero ci siamo proprio ricreduti ma perché sembrava una perdita di tempo perché vedendo quanto i nostri ragazzini i bambini sono bravi a scrivere anche a pc e riuscendo tranquillamente ad andare avanti a livello didattico il fatto di ritornare sulla grafia ci sembrava un qualcosa di troppo elevato e di dispendioso soprattutto eh per loro mentre invece mentre invece il fatto di poter scrivere con uno strumento è fondamentale perché perché migliora l'uso delle dita le dita che scrivono sono le stesse che servono per tirare sui giù le mutande tirare sui giù le mutande dice la regia però è così è così cioè la gestione degli elastici degli slip siamo un po' più tecnici è una gestione molto complessa ecco per cui questa è la cosa allora cioè il fatto di poter assecondare una richiesta allora sì è possibile cioè io non la spingo non la spingo ma se un bambino fa vedere se il genitore dice allora si va ci sono altre domande? Allora Piera diciamo fa un'altra domanda la leggo io perché ha problemi di audio ma come lo capisco che è pronta lei ogni tanto fa dei fa dei tentativi di disegno autonomo per esempio prova sempre a disegnare palloncini col filo o la falce di luna allora c'è stato un altro bambino sempre con la credo chat che aveva fatto la stessa identico percorso un ragazzino adesso un ragazzo ecco lui invece non disegnava i palloncini lui voleva che o il papà o la mamma toccasse la sua mano mentre alla lavagna disegnava l'omino adesso è arrivato a disegnare l'omino la casa da solo sulla lavagna con lui non siamo andati in grafia non siamo andati in scrittura perché lui tende a scrivere a pc e da lì non ci spostiamo però ha iniziato a fare i suoi disegni chiedergli di colorare da suicidio ve lo devo dire con tutta sincerità ma devo allora ma cioè l'ode al merito al fatto che l'hanno assecondato su questo allora come allora già l'idea di poter disegnare un qualcosa che mi piace è già un punto di partenza perché ha una fortissima motivazione poi su che cosa o con che cosa questo è un altro discorso cioè allora io sono fissato su alcune cose allora loro invece mi hanno fatto capire che questa fissazione a volte può crollare e che riescono tranquillamente cioè ci sono per esempio bambini che ad un certo punto si mettono a scrivere delle lettere sulla lavagna perché no benissimo iniziamo poi è logico che quando si dovrà dettare o scrivere in autonomia cose molto più sofisticate si utilizzeranno altri strumenti quali il pc quali l'alfabetiere però la cosa importante è sapere che se c'è una volontà di è possibile e ci si può provare allora mai lasciare nulla così cioè provateci provateci perché poi di fondo cioè la soddisfazione soprattutto dei vostri bambini ragazzini nel vedere che riescono a scrivere un qualcosa è altissima è altissima la regia parla parla la regia allora bisogna fare attenzione però che le prove non devono durare 15 anni cioè quando sono passati quel paio di mesi ok se da lì non vi scrostate chiedete aiuto e vediamo un momentino come si può andare avanti e migliorare la situazione perché altrimenti cioè da me arriva il ragazzino di 14 15 anni con altro tipo di patologia ma che fa cerchiolini da quando ne aveva 5 e da lì non è andato avanti e continua a fare cerchiolini cioè è un po' cioè bisogna dargli una mano forse vorrebbe fare anche qualcosa di meglio cioè allora mettendo insieme più teste la nonna la zia la mamma il babbo io cioè vedere di trovare di aiutarlo perché sicuramente a un certo punto fare solo cerchiolini non gli dà più soddisfazione loro gli dicono scrivi scrivi lui si mette via adesso fa due cerchiolini poi butta via tutto ha ragione lui si rende conto più degli adulti che ha intorno che di cerchiolini ne ha fatti anche troppi ok avete sentito tutti si ci sentono bene bene ci sono altre domande possiamo andare ancora che bello quello bellissimo disegno lo vedete tutti l'hai fatto tu Piera no secondo me no comunque va bene dai non ci sono altre domande allora andiamo avanti allora questo è un percorso che è il percorso paradossalmente più ostico ma naturale per la scrittura allora con la maggior parte dei nostri bambini però anticipiamo tutte queste cose questo percorso e per qualcuno andiamo in sostituzione del percorso tramite ausili che ci possono permettere di scrivere comunque allora uno strumento che viene proposto e usato per la scrittura è quello dell'alfabetiere l'alfabetiere è lo strumento che tutti voi conoscete non è altro che una una griglia di legno una scatola di legno con tutte le lettere disposte in ordine alfabetico ecco dato che eravate tutti presenti la volta scorsa non ripeto come presentare le lettere dell'alfabeto allora utilizzando le stesse lettere in riconoscimento presentate la volta scorsa le stesse lettere possono essere poi ad un certo punto inserite in questa griglia voi vedete che è una griglia che ha tanti vani quanti sono le lettere ne ha qualcuno in più di solito mettiamo solo le lettere della lingua italiana non andiamo a mettere le lettere più difficili le W eccetera eccetera ma perché le usiamo poco inizialmente poi potremo aggiungerle ma tutti questi segni verranno aggiunti in un tempo successivo solitamente le vocali le mettiamo in rosso qui la vedete in nero ma di solito le mettiamo in rosso le consonanti in nero allora come si lavora con l'alfabetiere con l'alfabetiere si procede lentamente gradualmente come se fosse la tastiera del computer allora inizialmente non metteremo tutte le lettere dell'alfabeto anzi una cosa importante da dirvi prima è questa per chi dovrà stampare le lettere e attaccarle ai tasselli allora è necessario che ci siano almeno cinque lettere per ogni vano per cui cinque tasselli su ogni tassello una lettera sia in maiuscolo che in minuscolo dall'altra parte io di solito preferisco lavorare sul minuscolo perché tanto conosciuto il maniuscolo conosciuto il minuscolo è la stessa identica cosa però la cosa importante è usare fogli grigi coprire completamente non come per questo tassello il tassello in modo tale che non ci siano cornici di legno l'alfabetiere non va colorato va mantenuto in legno grezzo perché questo ci permette di dare meno fastidi a livello visivo le lettere non vanno plastificate per cui è molto più funzionale coprire e se per esempio il nostro bambino perde saliva o ha le mani quella volta mani sporche perché si è messo le dita nel naso e poi ha preso la lettera e la lettera si è rovinata tutta conviene stamparne un'altra togliere questa e attaccarci quella nuova ecco non abbiate paura a ricambiare le lettere cioè conviene una cosa del genere ma è molto più agile e abile rispetto a quella plastificata è vero nella scuola adesso causa covid chiedono tutto plastificato perché è più facile da igienizzare allora bisogna capire un attimino come fare per glissare questo problema ci sono degli spray disinfettanti non lo so io che cosa ma si vedrà il da farsi è logico che conviene cambiare la lettera spesso in modo tale che la stessa lettera non rimane lì tante volte e e sia sempre cioè ci sia sempre un ricambio poi ecco si vedrà nel tempo che cosa succederà fortunatamente poi i nostri medici ci parlano del vaccino speriamo allora per cui qui ci saranno tutte le lettere dell'alfabeto le lettere dell'alfabeto saranno inserite poche per volta nell'alfabetiere per cui saranno lasciati dei vani vuoti proprio perché è come quando noi dobbiamo imparare ad usare la tastiera del computer quando impariamo ad usare la tastiera del computer noi le lettere le conosciamo già tutte ma non sappiamo dove sono posizionate per cui il nostro problema iniziale non sarà far riconoscere le lettere ai bambini ma far memorizzare la posizione delle lettere del bambino nell'alfabetiere e questa è la cosa più complessa è la cosa più complessa perché perché dovremmo posizionare l'alfabetiere in un posto in cui il bambino arriva a tutte le lettere con facilità dovremmo fare in modo che questo alfabetiere non sia troppo inclinato e non faccia cadere tutte le lettere in avanti perché sono le difficoltà comuni a tutti dovremmo fare in modo di mettere tre lettere poi altre due poi altre due per altre due per completare tutto l'alfabetiere gradualmente e poi iniziare tutto il processo di dettato di dettato prima con le singole lettere e poi sillabico come allora solitamente i nostri bambini lavorano tutti in piedi cioè perché perché il lavoro sull'alfabetiere è un lavoro molto veloce ma è anche un lavoro che richiede un atto motorio dinamico per cui il fatto di essere in piedi permette al bambino di essere più veloce nel prendere la lettera che serve voi l'alfabetiere sarà composto anche di questa guida voi vedete che è una guida la conoscete già tutti che ha dei rialzi degli zoccoletti che bloccano la lettera e che più o meno è simile a quella e vuole rappresentare quella che è la riga del quaderno cioè sulla riga del quaderno quando io scrivo una lettera la lettera da qui forse vediamo se è così sì da qui non si muove anche qui deve rimanere ferma perché se io avessi una lettera mobile scrivere per i nostri bambini sarebbe molto più complesso perché appena mettono vicino la seconda la terza la quarta tutto si sposta e tutto si scompone allora come si lavora si lavora in questo modo si chiede al bambino di scrivere una lettera per cui scrivi A in questo in un momento ce l'ho in mano A il bambino prende la A e la mette qui bravissimo hai scritto A leggi A molto bene rimetti la A al suo posto per cui questa è la prima procedura per cui scrivi leggi metti a posto scrivi leggi metti a posto cosa succede? che il bambino vede la lettera tre volte la etichetta tre volte la prende la posiziona questo permette di mandare in memoria dov'è la lettera con poche lettere sarà un dettato solo di singole lettere quando le lettere inizieranno ad essere di più per motivare il bambino noi potremo anche dettare delle parole scriviamo cane allora potrà essere adesso io ve la faccio cadere bravissimo è stato bravo hai scritto cane leggi puoi dire cane molto bene allora a questo punto è rimetti a posto e io glielo chiedo si rimette sempre a posto dall'inizio rimetti a posto a metti a posto n metti a posto e molto bene e posso farti un'altra proposta quante richieste in base alla tenuta del bambino io posso avere un bambino a cui posso fare soltanto due richieste e basta altri invece a cui ne posso fare tre consecutive altre ne posso fare quattro e poi in allenamento queste aumenteranno appena appena ci sono tutte le lettere all'interno dell'alfabetiere sono state posizionate tutte allora inizieremo a lavorare su quello che è il dettato sillabico il dettato sillabico sarà un dettato di contrascinamento sonoro esempio scrivi ma per dettare ma io dovrò dettare prima la m e poi la a perché se detto ma così velocemente la lettera che rimane impressa è la a allora a questo punto cosa devo fare scriviamo scrivi ma m 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 il suono fino a quando il bambino e allora non ha preso la lettera o meglio fino a quando il bambino non l'ha guardata perché nella maggior parte dei nostri bambini che cos'è che succede che guardano la lettera poi guardano da tutt'altra parte e vanno a prendere il primo tassello che capita per cui il fatto di guardare la lettera ci dà la conferma che lui ha visto dov'è e allora a questo punto con un po' di facilitazione ti porto anche la mano lì vicina per prenderla e per metterla questo ti agevola ti dà motivazione ad andare avanti e ti aiuta a rendere il tuo lavoro sempre più sicuro e facile per cui prende la bravissimo e trascino la e prendo questo trascinamento di consonante di vocale continuerà fino a quando il mio ma non sarà un ma per cui scrivi ma allora qui l'errore più comune è quello di usare soltanto solo due tre sillabe e basta allora in questo caso noi dobbiamo proporre anche tutte le sillabe che ci sono nell'alfabetiere possibili piane però piane non sillabe con difficoltà non sillabe che iniziano con vocale per esempio per cui allora a questo punto la cosa importante è io ti detto sillabe piane però le uso tutte il più possibile questo ti permette di andare a etichettare vedere prendere la lettera e metterla ecco ricordatevi sempre che la difficoltà non è mai quella del riconoscimento della lettera ma è quella dell'attivazione motoria nel prendere una lettera che si trova in quella determinata posizione per cui il tempo che voi richiedete al vostro bambino è un tempo che è più o meno lungo in base a quanto tempo lui ci mette per andare ad identificare dov'è prenderla e metterla ok dalla sillaba piana si detterà la bisillaba piana dalla bisillaba piana si detteranno le trisillabe piane dalle trisillabe piane inizieremo ad inserire tutte le difficoltà è il percorso che solitamente viene proposto nella scuola primaria che è un percorso poi di fondo che va a rispettare tutto quello che è l'andamento della scrittura e vi devo però premettere un'altra cosa allora per qualcuno allora questo alfabetiere va bene per altri invece dovremo strutturare alfabetieri un po' più a misura per esempio ci saranno bambini che avranno tasselli doppi cioè per cui con uno spessore molto alto che possano permettere a loro di prendere un tassello per volte non di farne cadere cinque ci saranno altri invece con cui useremo una tavoletta di legno e con del velcro allora questo non significa non fare lo stesso identico lavoro ma significa avere strumenti sempre più idonei per poter mandare in scrittura tutti i vostri bambini perché la cosa più importante è quella è vero molto macchiavellico però è un po' così cioè dobbiamo trovare una facilitazione una diversificazione tale per cui per ogni bambino ci sia la possibilità di andare in scrittura o in un modo o nell'altro dal dal dettato di parole con difficoltà possiamo anche ma anche antecederlo possiamo tranquillamente possiamo passare all'autodittatura allora come si giunge all'autodittatura allora l'autodittatura si giunge nel mostrare un oggetto un'immagine al bambino senza dire che cos'è ti faccio vedere questa e ti dico che cos'è questa Manu scrivi allora ci saranno bambini che ripeteranno che cos'è qualcuno per linguaggio non lo ripeterà che cos'è per cui la cosa importante è se il bambino mi dice Manu bravissimo scrivi allora dai inizia che cos'è allora ci saranno bambini che metteranno lettere della parola non infila l'uno all'altro ma le metteranno tutte altri invece che metteranno la prima lettera e l'ultima altri che avranno bisogno di una seconda domanda rispetto a che cos'è questo per rimandare in memoria o rievocare la parola Manu rifacciamola insieme che cos'è questa Manu scrivi che cos'è Manu che cos'è cosa devi scrivere cosa devi scrivere Manu cosa devi scrivere Manu scrivi Ma M bravo poi ridimmi che cos'è Manu poi che cosa N ok a questo punto io pongo l'attenzione sul bambino sul suono della parola e questo mi permette di andare step to step a fargli scrivere una parola in autodettatura capite bene che è un lavoro complesso per i vostri bambini ecco no attenzione a non ripeterlo continuamente voi se voi allora dite la parola Manu allora non è più autodettatura è dettato per cui è importante che voi non diciate che cos'è a meno che non ci sia una difficoltà di pronuncia della parola allora a questo punto tutte le volte che il bambino ha preso una lettera e ha scritta voi potete leggerla che cos'è questa e poi cosa ci va di là poi dopo la cosa va prende la e la mette bravissimo e dopo e allora a questo punto aiutate a completare perché etichettate le lettere che il bambino ha preso e ha messo ok dall'autodettatura di bisillabe piane si passa a quelle delle trisillabe piane e poi a tutto il resto da qui da qui le pensierini le frasi minime ora per passare alla frase l'alfabetiere ormai diventerà un ingombro per cui allora ad un certo punto ci sarà la necessità del passaggio ad una tastiera a pc allora perché non abbiamo usato prima il pc ma abbiamo usato prima un alfabetiere rispetto al pc perché quando io uso subito un pc è molto difficile controllare il dito del bambino mentre scrive il dito può essere anche messo in 50 minuti le lettere le lettere sono i tasselli della tastiera sono molto più vicini sono molto più piccoli sono molto più complessi nella gestione poi della scrittura per cui è molto più difficile per l'adulto gestire l'errore dall'alfabetiere il passaggio alla tastiera diventa semplice anche se la tastiera è qwerty perché dovremmo usare una tastiera facilitata con tasti grandi spesso per qualche bambino sarà necessario avere uno scudo uno schermo di plexiglass per fare in modo che il dito non cada sui quattro tasti ma cada proprio correttamente sul tasto ma questo ci permetterà un attimino a un certo punto di aiutare il bambino a scrivere anche frasi sempre più lunghe sia in dettato sia in autodettatura usare la tastiera non è semplice per usare la tastiera dovremo più o meno agevolare il passaggio con la schermatura di alcuni tasti puoi scoprirle puoi scoprirle puoi scoprirle come abbiamo fatto con l'alfabetiere e questo permetterà al bambino di memorizzare quella che è la loro posizione e permetterà anche a lui di riuscire a gestire bene la tastiera che è molto più piccola rispetto ad un alfabetiere inizierà inizierà tutto un processo di scrittura e questo processo di scrittura sempre più sofisticato potrà portare a risultati sempre più alti anche se non tutti disattivato e questo ci permette un attimino di andare avanti ora sulla tastiera conviene sempre andare su quella che è la gestione degli ausili all'interno del poi ecco la qualità della tastiera si deciderà in base a quelli che sono i bisogni del bambino del ragazzino per cui per qualcuno la big cake squirty va benissimo per altri anche quella cinese cioè la cosa importante però di fondo è in base a quello che è la capacità del bambino di gestire le dita si deciderà quello che sarà più utile dovrete però andare in tutta quella che è la gestione della tastiera all'interno del computer per diminuire la velocità di scrittura e bloccare completamente quello che è il ripetersi delle lettere scritte ecco questo è un po' il tutto poi ecco tutto poi posso certo attenzione a non fare giochini con il computer dalla regia mi dicono no è una cosa invece importante allora abbiamo parlato di scrittura ecco meno giochi si fanno meglio è o meglio se non si fanno meglio è voi avete visto che tutto il processo tutto il processo di scrittura porterà poi in scrittura su un semplicissimo programma che ci permetterà di avanzare con quelli che sono gli apprendimenti i giochi didattici sono delle banalità però sono giochi molto più semplici rispetto alla scrittura proposta proprio perché eh anche il bambino molto piccolo riesce ad eseguire e non mantengono l'attenzione al compito proprio perché è un continuo sollecitare ehm l'attenzione visiva soprattutto su link su banner che si accendono per cui che cosa succede che è più un fattore di distrazione rispetto a quello di un'attenzione su un lavoro didattico ben preciso meno giochi didattici si fanno meglio è proprio perché conviene aumentare i tempi di lavoro su un processo che è vero che è un po' più convenzionale ma è anche quello che ci dà molti più risultati rispetto a tutte quelle attitudini manuali che serviranno nella vita ecco questo è un po' c'è un libro molto bello e io adesso di questo non ve ne voglio parlare però se qualcuno avesse la possibilità di leggerlo è molto bello è un libro scritto da Spitzer che è Demenza Digitale converrebbe leggerlo è un libretto che si legge tranquillamente in un giorno allora questo ci dice quanto a volte noi pensiamo che un programma sia funzionale a livello di intelligenza mentre invece è tutt'altro ecco sono tutte ricerche scientifiche neurologiche europee ma anche intercontinentali per cui dateci un occhio è un libro molto bello domande dopo aver usato l'alfabetiere la stessa parola si va alla registrazione sul quaderno mi sono spiegato la parola che ha scritto il bambino per esempio ho capito allora questo è questo è soprattutto allora è un accordo che famiglia e scuola possono prendere o meglio è un qualcosa che permette di avere una traccia di quello che è il lavoro fatto dal bambino a scuola oppure la stessa identica cosa a casa per la scuola per cui per non scrivere le stesse identiche parole tutti i giorni perché il rischio è sempre quello di proporre sempre casa mela vela casa mela vela e casa mela vela perché non me ne vengono in mente altre allora la scrittura su un quadernino non serve tanto al bambino quanto serve a voi adulti per sapere quello che lui ha fatto in modo tale da non ripeterlo ok poi che sia utile per il bambino no perché se già ha scritto sull'alfabetiera ha scritto sull'alfabetiere questo questo volevo sapere se era utile per il bambino non per me cioè alla fine è importante che sia utile per lui cioè se ripetere di nuovo la stessa parola anche sul quaderno aveva un'utilità per lui questo volevo sapere non per ok 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 grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.